Come è nato Keyforge? Da chi è stata partorita l'idea di creare un progetto così innovativo? E qual è stato il processo che ha portato il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo dal piano dei sogni alla realtà? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Da quando la Ghost Galaxy ha comunicato finalmente delle buone nuove che vedrebbero un ritorno certo dello Unique Deck Game sui tavoli da gioco entro la prima parte del 2023, ho personalmente ritrovato una fiducia che non avevo da quando è stato annunciato lo hiatus da parte della FFG. Ultimamente comunque un pensiero mi è sorto in mente. Va bene parlare di Keyforge e delle fantastiche avventure che ha fatto e tuttora fa vivere a milioni di forgiatori in tutto il mondo, ma com'è nata l'idea che ha visto dare alla luce uno dei progetti più ambiziosi e geniali, parere puramente personale, presenti nel mondo dei giochi di carte? E così ho iniziato a cercare informazioni per ricevere risposta a questa domanda e ho trovato anche attraverso keyforging.com, il sito nuovo di Zecca creato dalla Galaxy, proprio in vista del rilancio dello Unique Deck Game, la fonte che ha spiegato il come e quando il crogiolo e tutte le vicende che su di esso accadono hanno preso forma. Ed eccomi qui quindi pronto a raccontarvi questa specie di lore del gioco stesso. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete inserendo il codice crogiolo5. Utilizzando il referral link aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC e se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli Fantasia Store sarà la risposta. In più volevo invitarvi ad iscrivervi al canale dato che molti di voi guardano i video dell'arconte del crogiolo ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme come è stato concepito Keyforge e la categoria al quale appartiene ovvero gli Unique Deck Game attraverso le parole di Christian T. Pettersen. Andiamo a dargli un'occhiata. La Genesi Gamma Trade Show 2015 Las Vegas Durante uno dei momenti liberi di Pettersen che per l'appunto si era recato all'Expo nella città del Nevada quest'ultimo ha avuto modo di incontrarsi con Eric Lang amico e collaboratore in FFG e in tale occasione si ha avuto modo di parlare di un progetto davvero curioso che lo stesso Lang avrebbe voluto realizzare di lì a breve. Eric stava prendendo in considerazione la possibilità di creare delle bustine di carte o addirittura dei componenti fisici che fossero unici nel loro genere da utilizzare durante delle sessioni ludiche così da permettere ad ogni giocatore di rivendicare come unicamente propria quella determinata componentistica che allo stesso tempo avrebbe coinvolto maggiormente nella partita e suscitato meraviglia negli animi di coloro che avrebbero intrapreso un match in un gioco mai visto prima di allora. Iniziarono così a parlarne più nel dettaglio comprendendo infine che per una stampa 3D di un singolo accessorio di quel tipo sarebbero state necessarie spese di produzione piuttosto alte dato l'utilizzo di un macchinario che avrebbe impiegato una fascia alta di resine indurenti con tecnologia aera GUV, spese di produzione che non avrebbero alla lunga giustificato un costo di vendita adatto al mercato. In quel momento Peterson suggerì che il pensiero che stavano sviluppando viaggiava su una lunghezza d'onda troppo riduttiva e che invece di ragionare su singole parti magari dovevano prendere in considerazione l'idea di creare un intero gioco che si basasse sull'unicità. Così Eric, colpito da questo ragionamento, iniziò a seguire l'idea come progetto fulcro, pensando a come ogni singolo giocatore avrebbe potuto trovare un universo a sé stante durante ogni match. E così alla fine dell'incontro, dopo una conversazione interessante ed un brainstorming degno del suo nome, Christian prese la palla al balzo e decise. FFG Asmoday dedicherà fondi ed energie per la realizzazione di questo progetto. Non è stata una decisione presa alla leggera. Peterson era ben consapevole della sfida gargantuesca che lui e il suo team di sviluppo avrebbero dovuto affrontare ed era altrettanto consapevole che la progettazione e il seguente sviluppo avrebbero comportato una grossa scommessa a livello finanziario. Eppure il concetto lo affascinava. Se non fosse stata la FFG Asmoday ad assumersi il rischio ed intraprendere questa avventura alla scoperta di nuovi orizzonti, chi mai avrebbe potuto? O voluto? Normalmente in un gioco da tavolo 6 o 12 oggetti bastano per fornire tutto a chi gioca. Un set di regole, un pacchetto di schede giocatore, un mazzo di carte individuale, un tabellone, un sacchetto di miniature di plastica, un set di dadi, un set di token di cartone, eccetera. Tutto ciò viene progettato, prodotto in serie e unito andando a formare degli articoli identici vendibili in mercato. Nel pensiero invece di gioco unico si utilizzerebbe il metodo dell'assortimento, ovvero ognuno di questi elementi, dadi, token, mazzi, eccetera, verrebbe estratto da un pool di articoli diversi, andando a formare una serie gestita da un algoritmo sequenziale. Ad esempio, nel caso di una selezione matematica di X come pool numero 1, si andrebbe a designare A, B o C come pool numero 2. Se fosse invece Y ad essere selezionato, allora A, D o F verrebbero scelte per formare il supporto necessario a creare il prodotto. Se fosse Z, toccherebbe A, B e O F e così via. Sembra difficile come concetto. E infatti lo è. Per farla semplice, a seconda del riferimento di partenza, per l'appunto X, Y e Z, ci sarebbe stata una conseguente selezione del contorno, che a fine produzione avrebbe formato l'articolo unico nel suo genere pronto per essere venduto. Per semplificarla ulteriormente, sarebbe stata tutta una questione di punto di partenza, costruiamoci attorno. Inoltre, un tale sistema avrebbe potuto mantenere un database di istanze per garantire che ogni nuova produzione conservasse dei punti minimi di differenziazione. In parole povere, comprendere quanto potrebbe essere diversa una copia dalla sua copia più simile. Insomma, stavano pensando a come costruire l'intero algoritmo. Dal punto di vista finanziario e di creazione, però, si presentarono dei problemi sostanziali. Il primo è che avrebbero dovuto creare 5 o 6 volte la quantità necessaria rispetto ad un articolo normale, andando ad influenzare sia il prezzo che il volume di produzione di ogni singolo elemento. Come sarebbe avvenuta la collocazione fisica del gioco ed infine la localizzazione linguistica, dato che le vendite di FFG in lingua inglese rappresentavano il 60% del mercato globale, mentre tutte le altre lingue messi assieme il restante 40%. Decidere stare dietro a tutto ciò fu impegnativo e perfino scoraggiante, ma la FFG non si tirò indietro e fronteggiò ogni singolo ostacolo a viso aperto. Quando il gamma del 2015 terminò, assieme ad Eric, Christian decise che si sarebbe occupato della scienza matematica che si muoveva alle spalle del progetto e della sua fattibilità economica, mentre Lang avrebbe dato inizio ad un gioco che si sarebbe basato sul concetto di Unique Game. Ma non tutto è andato come sperava Peterson. Un imprevisto imprevisto Lang è sempre stato un professionista richiesto nel suo settore e, aggiungendo anche gli impegni di Peterson, il progetto unico subì dei rallentamenti nelle prime parti dello sviluppo e, i due anni successivi al gamma, hanno visto solamente un nulla di fatto a livello concreto. Era rimasto tutto sul piano delle idee. A dare il colpo di grazia fu l'annuncio da parte di Eric, che sarebbe entrato a far parte della Come On, una casa di produzione concorrente della FFG come direttore del game design a Singapore. Peterson aveva più volte cercato di assumere Lang in FFG, ma in dieci anni di tentativi non era mai riuscito a superare le normative statunitensi sull'immigrazione e di permessi di lavoro. Ma a peggiorare le cose fu il fatto che Christian si rese conto che, ora, dato che Lang era stato assunto dal diretto concorrente della FFG, quest'ultimo non poteva più permettersi di lavorare al progetto Unique. Diverse idee nascono e poi muoiono a causa di queste dinamiche impreviste. Fortunatamente però nel 2011, quindi quattro anni prima dell'incontro tra Peterson e Lang, il fondatore della fantasy discusse di un concetto completamente diverso con Corey Konieczka, leader del settore design della stessa FFG. Corey scommise molto tempo prima che diventasse un fenomeno globale su Minecraft, affascinato dal concetto di esplora, costruisci e sopravvivi. E nel 2014 lo stesso Konieczka lanciò Outcast, che venne però rallentato nella produzione a causa del programma di rilascio della FFG. E dopo aver appreso la notizia dell'assunzione di Lang in Camon, Christian iniziò a pensare se il rallentamento del gioco di Corey non fosse un segnale, iniziando a considerare di fondere lo stesso Outcast con il concetto di gioco unico. Fu così che nacque Discover Lands Unknown, che mantenne l'identità principale di Outcast, ma con parti pensate e sviluppate per adattarsi al meglio al modello di Unique Game. Fu uno sforzo enorme progettarlo e venderlo, ma alla fine del lavoro tutto andò per il meglio, garantendo all'utenza un'esperienza ludica davvero unica nel suo genere. Poi arrivò uno dei più prolifici creatori di giochi di carte al mondo che propose all'ASMO un secondo progetto. Richard Garfield all'inizio del 2015 presentò ad Adrian Matinot, CEO della Days of Wonder, un gioco di carte collezionabili e proprio come la Days, anche la FFG era entrata da poco a far parte del gruppo ASMO Day. Al tempo, Adrian decise che il progetto di Garfield era molto ambizioso e poco in sintonia con le risorse della Wonder. Così indirizzò il creatore di Magic the Gathering direttamente alla FFG e quindi a Petersen. In una gelida mattinata di marzo 2016, Garfield, assieme a dei suoi stretti collaboratori, si recò nella sede del Minnesota e presentò il progetto Technic. La caratteristica di questo gioco che colpì incredibilmente Petersen fu che ogni mazzo era unico nel suo genere, concepito a monte da un calcolo matematico che avrebbe generato l'insieme di carte che non poteva essere modificato dai giocatori né prima né durante né dopo la loro esperienza ludica. Così era e così sarebbe dovuto rimanere. Inoltre ogni carta avrebbe avuto un nome, un'illustrazione ed un dorso creato randomicamente assegnando ad ogni elemento una sua identità univoca. Questo progetto fu totalmente in linea con il concetto di gioco unico, discusso tra Petersen e Lang al Gama, che l'idea venne subito accolta e prodotta. Certo è che non si trattò di un lavoro semplice, dato che la totale unicità di ogni singolo elemento mise a dura prova l'algoritmo di creazione e a differenza di Discover, che univa gioco unico e collaborativo, nel caso di Technic quello che lo muoveva furono sì l'unicità, ma con un aspetto più competitivo. Di lì a poco, quel gioco ideato e proposto da Richard Garfield nel marzo del 2016 sarebbe diventato Keyforge. L'ascesa di Keyforge All'inizio i modelli di GCC erano talmente radicati nelle menti dello staff della FFG che le prime obiezioni iniziarono a saltar fuori. Come avrebbe preso l'utenza l'idea di un gioco di carte competitivo dove non sarebbe stato possibile modificare il proprio deck? Quale esperienza ludica avrebbe offerto e come sarebbero stati accolti dei mazzi meno competitivi da quei giocatori concentrati sul lato agonistico? Come ogni idea innovativa non si avevano risposte certe, si doveva rischiare. Il progetto iniziale di Garfield con Technic servì da fondamenta per sviluppare poi quello che il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo divenne. I concetti di base furono proprio quelli di creare dei deck con tre fazioni ciascuno estratte da un pool di casate presenti in gioco, l'assenza di costo per utilizzare una carta e tre token totem riadattate poi in chiavi. Durante il processo di creazione di Technic non sono mancati stop dovuti a discussioni interne, modifiche non sempre accettate e altri imprevisti dovuti alla produzione, ma alla fine del lavoro si è creata una tale sintonia tra Garfield e la FFG che dopo le trasformazioni del caso svolte in fase di preparazione del progetto, di Technic oramai era rimasto solo il concetto di base, lasciando spazio libero alla vera identità di Keyforge. Quando iniziò la produzione dello Unique Deck Game ci furono considerazioni anche sullo sviluppo della proprietà intellettuale, ovvero le varie illustrazioni che ritraevano il crogiolo e i suoi abitanti. L'obiettivo finale fu quello di mantenere il prezzo del singolo mazzo attorno ai 10 dollari, nonostante ogni singola carta sarebbe stata stampata digitalmente e ciò avrebbe richiesto un costo in termini economici dalle due alle quattro volte superiore rispetto alla norma. In più il processo di stampa avrebbe richiesto molto tempo e in casa FFG iniziarono a sorgere i primi dubbi soprattutto incentrati sull'evasione di ordini sufficienti a soddisfare le richieste iniziali dell'utenza. Inoltre durante la creazione del singolo unico ogni deck avrebbe affrontato un procedimento di preelaborazione dove sarebbe stato creato dall'algoritmo passato alla stampante per poi essere realizzato fisicamente una volta che il procedimento sarebbe stato considerato idoneo dall'intero sistema di lavorazione. Il lato dello sviluppo di Keyforge si presentò come un mostro. L'algoritmo doveva pensare a creare carte rivolgendo un occhio anche ai set futuri e allo spazio di progettazione generando immagini e nomi creati proceduralmente per il retro delle carte andando ad utilizzare quindi regole grammaticali che sarebbero cambiate da lingua a lingua. Tutto ciò sarebbe stato mantenuto in un backup dati affinché i progettisti del gioco per creare nuove carte, espansioni, nomi, immagini, correlazioni, monitorare il peso dell'algoritmo stesso eccetera avrebbero avuto modo di agire liberamente. Dopo un anno di lavoro incessante per far sì che l'algoritmo funzionasse a dovere, la potenza di calcolo si presentò come ennesimo ostacolo da dover superare. Per creare un singolo unico ogni carta doveva essere elaborata e renderizzata. Per farla semplice non era stato molto il fattore creazione del deck a richiedere tempo, ma la sua stampa effettiva. Poiché si stava lavorando con file ad alta risoluzione pronti per essere riprodotti, la potenza di elaborazione richiesta dal macchinario risultava essere esagerata. Si parlava che per ogni deck, se fossero stati necessari idealmente due minuti per la creazione ed il rendering, per 100.000 mazzi sarebbero stati richiesti comunque la bellezza di 166 giorni, tenendo conto che le stampe sarebbero state di più, data l'intenzione di produrre il gioco anche in più lingue. Per aggirare questo ostacolo, la FFG ottimizzò il processo di rendering spartendolo su più processori, ovvero facendo sì che diverse fonti andassero a lavorare simultaneamente dividendosi il compito e quindi anche il peso dell'intera operazione, creando una vera e propria rendering farm che avrebbe generato sufficienti unici al giorno per soddisfare le esigenze di mercato, soprattutto nelle prime fasi di lancio del gioco. E superando anche questo ultimo ostacolo, fu così che nacque ufficialmente il progetto Keyforge, che da novembre 2018 fino ai giorni nostri permette a diversi forgiatori di sfidarsi in match avvincenti volti a forgiare le tanto desiderate tre chiavi per accedere al sapere immenso contenuto nelle cripte. E così abbiamo scoperto assieme che in principio il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo si chiamava Technic, che prevedeva la creazione di tre totem al posto delle chiavi e che per arrivare allo sviluppo concreto dello Unic Deck Game che tutti quest'oggi conosciamo, ci sono voluti diversi anni e molteplici ostacoli da superare prima di vederlo trasposto dal piano dei sogni a quello della realtà. Se vorrete inoltre leggere l'articolo in lingua originale dal quale questo contenuto ha preso spunto, come sempre potrete trovare il link in descrizione. E voi, conoscevate il passato di Keyforge e tutto ciò che ha dovuto affrontare per diventare il gioco di carte più innovativo nella storia dei giochi di carte? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.